FS è l'acronimo di Ferrovie dello Stato italiane, ma per noi vuol dire molto di più. È futuro e storia, perché solo chi ha un grande passato può gettare solide basi per il presente e il futuro. Per una sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, significa anche forza e sviluppo, perché siamo una forza industriale del Paese, che fa crescere l'economia, l'occupazione, il territorio e il turismo. Gruppo FS italiane vuol dire anche fare scelte, perché insieme alla nostra filiera industriale, scegliamo di migliorare l'ambiente e la vita di tutta la collettività. Azzerare le emissioni di CO2, favorire lo shift modale e creare una mobilità più sicura, sono le nostre prossime mete, perché il Gruppo FS italiane è in viaggio verso un futuro, sempre più sostenibile.